Devo caccare assolutamente. Sto malissimo, devo proprio fare la cacca. Il fatto è che mi sto congiando, provo a sentire male, mi gira un po' la testa, è una brutta situazione, mi devo sentire la pancia. Quanto ci potresti trovare in questa situazione? Sì. È notale. È un'utile, è un'utile, è un'utile, è un'utile. È un'utile. Grazie a tutti Grazie a tutti E anche di chiunque Io ho bisogno del testo di Joe Se anche Di una mucca Questa è la paura del video La mano sul fianco Diretta con il frosho Ci si è linciato No Dio Vabbè 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 ahah ma che ci sono? ahah 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 ahahah ahah 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 Eh, frà, esce meglio che vuoi. Tutto ad un viato, non mi trovo. Io non so il cantante, però c'ho le vere. STOOOOOR! Ma pure male in piangere. È solamente la prima metà. Il viaggio, questa è la parte del viaggio. La parte, questa è la parte a bianca. Non l'hai capito, però non lo capisci che significa. Non capisci nel rialetto, però... No. No, è l'interno, stanno insieme. Un nazi! 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 Ha una bella coppia. Dechillata Mano Coraggio al vento Chega I'm trying to Rampo 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 Questo è quello più meglio, ma mi senti sempre se stai chitati, mi fai la parola. Grazie! Dammi la mano. Dammi la mano. Non so che lo sei inizio. Quanti come hai giovane. Se non si può fare il video duvido, non so non so. In un nuovo video, lonam. Beboppenile. Un'esser da un'enguinza. 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 Come on!